L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Racconterà la Calabria in chiave emozionale, il corto di Muccino, un investimento che promuove la nostra terra. Così, io le santelli alla presentazione dell'opera. Taglio dei costi della politica e violazione dello statuto regionale. I parlamentari del Movimento 5 Stelle chiedono l'intervento del governo. Vittoria in casa per il Crotone, grazie alla tripletta di Simi. Annientato il Benevento, il Cosenza si fa male da solo e perde in casa contro l'Ascoli. Ben ritrovati con la nostra informazione in apertura, come avete visto dai nostri titoli. La presentazione di un corto emozionale che riguarda la nostra regione. È una scoperta che faccio in prima persona, ha detto il regista Gabriele Muccino, nel corso della conferenza stampa di presentazione del corto sulla Calabria, commissionatogli dalla regione e di cui ha iniziato le riprese. All'incontro hanno partecipato la presidente della regione, Iole Santelli, e i due protagonisti del corto, Raul Bova e la moglie, Rosio Munoz Morales. Quello che mi è stato raccontato, ha proseguito Muccino, e quello che offre la Calabria va oltre ogni mia immaginazione. Questa regione ha saputo raccontare forse troppo poco di sé rispetto ad altre. Sono contento di essere qui e di farmi, tramite delle bellezze di questa regione, insieme a Raul Bova e Rosio. Ho avuto la fortuna, invece, ha detto la presidente Santelli, di fare politica e di vedere i territori. Volevo Muccino, ha detto ancora la presidente, perché è il regista dell'amore e se non riesce lui a fare innamorare le persone della Calabria, non ci può riuscire nessuno. Questo corto non è solo turismo, ma è promozione della Calabria. Cambiamo argomento. Da un anno e mezzo è ferma nei cassetti del Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare per il taglio dei costi della politica. Una grave violazione dello statuto regionale per i parlamentari del Movimento 5 Stelle che chiedono l'intervento urgente del governo. I parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle chiedono lo scioglimento del Consiglio regionale. Lo fanno con un'interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Affari Regionali per diffidare la Regione Calabria, accusata di non rispettare i propri obblighi statutari. Abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese. Sappiamo che è una proposta forte, ma in questo momento il Consiglio regionale calabrese sta violando il suo statuto, sta violando le leggi regionali sull'iniziativa di legge popolare. Questa è una grave violazione di legge che può essere sanata discutendo la proposta di legge sul taglio dei costi della politica regionale che abbiamo depositato oltre un anno e mezzo fa oppure il Consiglio regionale va sciolto. Nel corso di una conferenza stampa i parlamentari Alessandro Melicchio, Paolo Parentela e Bianca Laura Granato hanno spiegato che non è stata ancora calendarizzata la proposta di legge di iniziativa popolare per il taglio dei privilegi della politica, con la quale si punta ad ottenere un risparmio di 3 milioni di euro all'anno, riducendo del 40% gli stipendi e le spese dei politici regionali e dei gruppi consigliari. Il Consiglio regionale calabrese è il più costoso d'Italia, spende quanto spende la regione Lombardia con il doppio dei consiglieri. Nel mirino dei parlamentari 5 Stelle i compensi dei consiglieri regionali dei componenti della Giunta, le spese per le strutture e i collaboratori, ma anche gli stipendi dei vertici della burocrazia regionale. Noi abbiamo rilevato dei costi elevatissimi anche per quanto concerne gli stipendi dei direttori e dei dirigenti. Esistono due normative regionali che andrebbero abrogate all'istante proprio per rispettare quello che è in questo momento una situazione drammatica dal punto di vista economico della Calabria. Ci sono queste due norme, una del 1996 e l'altra del 2010, che andrebbero abrogate e che permettono attualmente il raddoppio dello stipendio per quanto concerne i direttori generali e anche i dirigenti. Quindi abbiamo dirigenti strapagati e è una cosa che viene solamente in Calabria. Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alla mezza terme in via Goffredo-Malaterra. Per cause in corso di accertamento una moto Ducati su cui viaggiava una coppia si è scontrata violentemente contro una Renault Clio con a bordo tre ragazze. I vigili del fuoco del distaccamento di la mezza terme sono dovuti intervenire per estrarre i feriti incastrati tra le lamiere con torte dell'auto. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali di la mezza terme e Catanzaro mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Un doppio intervento chirurgico in emergenza andato a buon fine eseguito dall'unità operativa di cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria Materdomini di Catanzaro ha salvato la vita di un paziente di 57 anni con rottura della orta. Lo rende noto Ciro Indolfi, direttore dell'unità di cardiologia. Fa molto piacere riuscire a parlare ogni tanto di buona sanità, soprattutto quando questo accade in una regione come la nostra, la cui sanità commissariata da molti anni balza spesso agli onori della cronaca con notizie negative. Eppure anche in questa Calabria, ha continuato Indolfi così tanto bistrattata, il sistema delle emergenze e urgenze cardiovascolari funziona e ha funzionato in maniera impeccabile. L'intervento a cui è stato sottoposto, ha spiegato il professor Ciro Indolfi, è un intervento di altissima specializzazione che richiede elevatissime professionalità ed esperienza, oltre che un sistema organizzato ed abituato al trattamento delle emergenze e urgenze. Alessandro Cuomo è il nuovo presidente piccola industria di Confindustria Crotone. L'imprenditore crotonese, titolare dell'arredo Inox, azienda leader riconosciuta nel settore della trasformazione e della conservazione dei cibi legati alla tradizione italiana, è stato eletto dall'assemblea della piccola impresa di un'industria calabria. Il nostro tessuto produttivo, ha detto, può crescere ed essere rilanciato in modo innovativo, soprattutto all'estero. È necessario fare squadra tra imprese e soprattutto con i nostri giovani, perché è proprio da loro che otterremo la vera innovazione, ovvero un ricambio generazionale, dinamico e vincente. Cuomo entra a far parte del comitato regionale piccola industria, guidata dal neoletto presidente Daniele Diano. Un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto di Castrovillari è stata vittima di una violenta aggressione perpetrata da un detenuto straniero. Ci dice di più nel servizio a Narita Cardamone. Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a registrare un episodio brutale ai danni di chi ogni giorno garantisce sicurezza all'interno delle carceri. Un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto di Castrovillari è stato vittima di una violenta aggressione perpetrata da un detenuto. Il collega della polizia penitenziaria, che è addetto all'ufficio magazzino detenuti, mentre era in procinto di consegnare i pacchi postali sul piano detentivo, è stato aggredito senza motivo da un detenuto di rientro dai locali dei passeggi. Un pugno in faccia, il collega è stramazzato a terra, ha sbattuto violentamente la testa e la schiena. Solo il provvidenziale intervento degli agenti di polizia penitenziaria, accorsi immediatamente sul posto unitamente alla sorveglianza generale e al comandante di reparto, hanno evitato che le cose degenerassero. La prognosi è di 90 giorni, il collega è una persona molto apprezzata, sia a livello lavorativo che umano, da tutto il personale della polizia penitenziaria. Purtroppo non è l'unico episodio di violenza registrato negli istituti di pena. La polizia penitenziaria si trova sempre più sola a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano a causa della grave mancanza di personale senza strumenti e mezzi nel far fronte alle criticità all'interno degli istituti penitenziari. Le carceri sono senza controllo su questo tipo di eventi. Noi come OSPP il 2 luglio abbiamo manifestato a Roma, a Piazza Montecitorio, insieme a tantissimi rappresentanti delle forze politiche nazionali, con un hashtag ben preciso, salviamo la polizia penitenziaria. E' notizia di queste ore l'approvazione di un decreto legge a firma del partito di Fratelli d'Italia che ha autorizzato l'assunzione di altri 650 agenti di polizia penitenziaria. Noi diciamo che non sono pochi, sono ancora pochi. A Castrovillari abbiamo una carenza di personale di almeno 20 unità e la situazione è particolarmente tranquilla. Bisogna tenere alta l'attenzione. Quello che chiediamo al governo nazionale è di stare vicino alla polizia penitenziaria. E adesso lo sport. Larga vittoria del Crotone che annichilisce il Benevento con un Simi in versione superstar. Il nigeriano segna tre gol e rilancia il Crotone nella corsa per la promozione diretta. Delusione invece a Cosenza. Scamacca segna il gol a vittoria per Lascoli. E ora per i ragazzi di Occhiuzzi la situazione di classifica è complicatissima. Bene, benissimo per il Crotone. Male, malissimo per il Cosenza. Il 32esimo turno della Serie B ha messo in chiaro due cose. La prima che il Crotone ha riverso a correre grazie alla vittoria contro il Benevento e l'altra che la sconfitta del Cosenza ha messo in serie guai la truppa di Occhiuzzi. Ma cominciamo dalle note positive. Un super Simi frantuma la capolista arrivata in Calabria in clima vacanziero. Tre gol del cannoniere nigeriano che riporta il Crotone solitario al secondo posto e vede anche la testa della classifica dei marcatori di B. Già al 14esimo Simi riesce a girare di testo un cross di Gerbe e portare avanti i suoi. Quattro minuti dopo ancora il nigeriano si fa beffe della difesa sannita e mette in rete il 2-0. Il Benevento si vede poco per poi arrendersi definitivamente nel secondo tempo quando al 26esimo Gerbo crossi in aria ancora per Simi che chiude i conti. Al San Vito Marulli invece va a scena una gara per molti versi drammatica nella quale il Cosenza ne esce con le ossa rotte. Sbaglia tantissimo la squadra di Occhiuzzi al suo primo K.O. Nel primo tempo e anche all'inizio ripresa. Sornione e C.Nicolas Coli che con Scamacca sfrutta un errore di Monego e si porta a casa l'intera posta in palio per la felicità di Dionisi a suo primo successo. I Silani vengono anche scavalcati dal Trapani e la salvezza a questo punto è lontana 5 lunghezze. E mancano 6 gare alla fine e nel prossimo turno impegni piuttosto complicati per le due calabresi. Il Crotone farà visita al Cittadella che ha perso contro il Pisa mentre il Cosenza sarà alla spesia contro la formazione di italiano che a Frosinone ha conosciuto il suo secondo stop di fila. Per quanto riguarda la nostra informazione è tutto. Io vi do appuntamento a questa sera alle 20.45. Grazie per averci preferito. Continuate a rimanere sul 18. Arrivederci.